E allora, secondo Ratzinger, siamo sempre nel rapporto sulla fede, giunta l'epoca nuova in cui il cristianesimo deve tornare a opporsi al mondo in quanto minoranza. Siamo, dice Ratzinger, nella situazione del seme di senape, di gruppi di piccole dimensioni apparentemente ininfluenti, che devono, dice Ratzinger, osare di nuovo con l'umiltà del piccolo granello, lasciando a Dio quando e come crescerà. Ecco l'immagine del granello, del piccolo granello del seme di senape che resta in qualche modo in piccoli gruppi ed è pronto a fiorire quando e come Dio deciderà, dice Ratzinger, il quale aggiunge anche le grandi cose cominciano sempre dal granello piccolo. E qui si capisce bene già il tema del piccolo resto che Ratzinger evidenziava nel 69, un piccolo resto di cristiani che non si piegano al mondo, che non vuole più saperne. Ratzinger, come sapete, divenne pontefice nel 2005, nel 2005 e da subito entrò in conflitto con il mondo proprio per le ragioni suddette, per il fatto che, in sintesi, anziché portare il cristianesimo verso l'abisso, verso lo scioglimento nel mondo, rivendicò il sacro, l'eterno, la tradizione, la filosofia e la teologia e quindi entrò in conflitto con un mondo che non voleva più saperne. Ecco perché tanta inimicizia da subito ostentata verso Ratzinger da parte del sistema mediatico. Ecco perché, come già potete capire, tanta simpatia rivelata invece per Bergoglio dagli stessi che avversavano e che tuttora anche post-mortem avversano Ratzinger. Ratzinger si oppone al mondo e il mondo si oppone a Ratzinger. Bergoglio non si oppone al mondo e il mondo non si oppone a Bergoglio, in estrema sintesi. Ratzinger da subito era consapevole che la sua sarebbe stata una missione di opposizione e che avrebbe ottenuto non certo plauso e consensi da parte del mondo. Il 24 aprile del 2005, quindi proprio nel contesto della sua ascesa al soglio pontificio, diceva Ratzinger testualmente che non intendeva fuggire per paura davanti ai lupi. Usava questa immagine, non intendeva fuggire per paura davanti ai lupi. Si era perfettamente consapevole del crollo del cristianesimo, della chiese del cristianesimo cui abbiamo assistito negli ultimi 30 o 40 anni, diceva Ratzinger. Dello sfacelo spirituale, delle difficoltà di orientamento, dell'abbandono e della trascuratezza che noi osserviamo a causa di una grossolana volgarizzazione nell'eccitato clima conciliare. Sono parole sempre di Ratzinger. In sostanza aveva capito da subito che il suo sarebbe stato un pontificato di opposizione rispetto al mondo. E non per caso Ratzinger fu da subito avversato ininterrottamente dall'ordine del discorso che non smise mai di ululare contro di lui. Una delle costanti dell'atteggiamento dominante verso Ratzinger fu l'inimicizia rivelata di congiuntamente da tutte le fonti del potere temporale. Le stesse, ripeto, che invece tanto celebrano oggi Bergoglio osannandolo come punto di riferimento, come una delle tante centrali di diffusione del messaggio unico della globalizzazione liberal-nichilista.